La Rebecca in ormeccanica vuole spazzare via la Foppa Pedretti Bergamo e conquistare la prima finale scudetto della sua storia. Un traguardo che, scongiuri d'obbligo, pare più che mai alla portata per le ragazze di Caprara. Alle 20.30 il Palabanca ospiterà dunque il primo atto della serie al meglio delle tre gare, che mette in paglio pure l'accesso alla prossima Champions League. Foppa arriva al gran completo, mentre per il bianco-blu solo la ziglia è costretta al forfè. Il sestetto piacentino che scenderà in campo questa sera sarà composto dalla Ferretti in cabina di regia, turle opposto, Guigge Legger in banda, Mainers e Bosetti in banda con Sansonna libero. Gara 2 è fissata martedì 30 al Palanorda di Bergamo con eventuale spareggio al Palabanca nella serata del 2 maggio.